Questo è quello che rimane del rifugio-ristorante Fontevetica dei Carolis a Campo Imperatore sul Gran Sasso d'Italia, non lontano da altri due rifugi, Mucciante e Giuliani, meta di tantissimi appassionati e fruttori della montagna aquilana. Questa notte un incendio lo ha completamente distrutto e non è rimasto nulla, se non una piccola parte in muratura, perché la struttura era completamente in legno, compresi gli arredi. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alla mezzanotte e sono intervenuti subito con quattro mezzi e una decina di unità di personale, ma quando sono arrivati sul posto il salvabile era praticamente quasi pari a niente. Il rifugio-ristorante De Carolis era stato completamente rinnovato circa due anni fa e si era organizzato anche con tante iniziative in estate per aquilani e turisti, dando la possibilità di soggiornare nelle camere oltre al servizio ristorante e bar. La posizione strategica in mezzo alla natura, non lontano dallo splendido borgo di Castel del Monte, lo rendevano particolarmente appetibile. Sulle cause dell'incendio si sta indagando, molto probabile che le fiamme siano divampate dalla cucina e si siano propagate velocemente altrove. Le operazioni di spegnimento si sono susseguite anche nel corso della mattinata, al momento dell'incendio nella struttura il ristorante era chiuso ma c'erano alcuni ospiti delle camere che hanno dato l'allarme. Già qualche anno fa era andata a fuoco un altro rifugio in zona.